Negli ultimi mesi è tornata a parlare del tema dell'abolizione della caccia e anche io ho fatto un video su quel tema, video di cui vado molto fiero, in cui analizzo varie questioni sui pro e i contro dell'abolizione della caccia, soffermandomi soprattutto sulle questioni ambientali. Sulla base di quello che ho studiato della conservazione degli animali e delle piante, con un approccio ecologico ho cercato di spiegare in modo complesso che ovviamente non è facile fare di tutta l'erba un fascio, che non è che ha senso dire bisogna necessariamente per forza per il bene degli animali sempre soltanto abolire la caccia o sempre soltanto invece tenerla. Bisogna vedere caso per caso, gruppo di animali per gruppo di animali, a volte specie per specie, chi se la sta passando bene e chi sta passando male. Ci sono casi in cui la popolazione è in calo, è in decrescita e in quei casi ovviamente la caccia su quegli animali andrebbe limitata se non eventualmente abolita o ci sono casi in cui magari la popolazione è persino in crescita o è molto grande, molto distribuita su tutto il territorio nazionale in cui dal punto di vista della conservazione di quella specie l'impatto della caccia è trascurabile. E nel caso poi, che ne so, delle specie aliene che fanno a loro volta dei danni ecologici, la caccia può anche essere utile in quei contesti in particolare. Ripensando molto a quel dibattito mi sono chiesto ma perché si è parlato tanto di caccia e poco di pesca? In particolare poco di pesca nelle acque interne, quindi nei fiumi, nei laghi italiani. D'altronde paradossalmente se ci interessa molto la questione ecologica di conservazione, i nostri pesci sono messi molto peggio dei nostri mammiferi, molto peggio dei nostri uccelli. Chiunque si occupi di ecologia, di conservazione, abbia almeno un po' ben chiaro a cosa sta succedendo in questo momento nel mondo e in particolare, nello specifico in Europa, sa che la conservazione delle acque interne in questo momento in Europa è molto problematica. Sono gli ambienti naturali più deturpati, più modificati dall'uomo, con una perdita di specie o potenziale perdita di specie in questo momento più forte, più ampia. Pensate che in questo momento il gruppo dei nostri pesci ossei di acqua dolce sono in questo momento il gruppo di animali più a rischio nella nostra zona, nell'Europa. Esse la giocano in realtà con gli squali del Mediterraneo, per capirci. Questi sono i due gruppi di animali che in questo momento rischiano di più all'interno del nostro territorio. Però, vedete, c'è un problema. Perché si parla tanto di caccia? Non si parla di, eventualmente, abolire la pesca, che da un punto di vista ecologico avrebbe almeno un senso, no, maggiore? Dai, è ovvia la risposta. È una questione di empatia, di empatizzazione. È più facile empatizzare con un dino piuttosto che con un luccio. Nonostante i danni siano in crescita, nonostante i danni siano delle specie aliene che rischiano di fare danni ecologici enormi, mentre il luccio è un pesce. È un pesce che però stiamo perdendo progressivamente dai nostri fiumi. E capite bene che ci sono due pesi o due misure. In un caso, da un punto di vista ecologico della conservazione di questi animali, noi dovremo assolutamente far di tutto per stare attenti alla perdita dei lucci e, anzi, paradossalmente, anche riuscire a trovare dei modi per limitare la crescita dei daini. Ma a livello, ovviamente, comunicativo, a livello di empatizzazione, inevitabilmente vince la difesa del dino. E allora mi sono detto, dai, facciamo un video per raccontare bene la situazione disastrosa delle nostre acque interne. Perché effettivamente manca un faro su questo tema. Ecco, spero che questo video possa almeno contribuire a sensibilizzare il fatto che i nostri fiumi, i nostri laghi, sono messi veramente male. E sì, capite quindi che il titolo dovremmo abolire la pesca, forse è un po' esagerato, ma anche no. Perché, come vedremo, la pesca, l'attività di pesca sportiva nelle acque interne, contribuisce a creare tutta una serie di problemi ecologici che sono la base di questo disastro, in un certo senso ecologico, che stiamo vivendo. Molto di più di quanto paradossalmente faccia la caccia su altri gruppi di animali. Partiamo dal contesto. L'Italia è formata da vari fiumi, vari laghi, e all'interno di questi fiumi e questi laghi ci sono svariate specie di pesci. Questi pesci sono circa una cinquantina autoctoni. Di questi forse se ne può aggiungere una decina, che sono pesci che in certe condizioni possono risalire attraverso il mare o possono vivere in acqua più o meno salmastra e eventualmente risalire un po'. 50-60 specie di pesce. Di questa cinquantina di specie, 20 sono endemismi, cioè si trovano solo nel territorio italiano. È una fetta enorme, quasi la metà dei pesci che si trovano nei nostri fiumi, nei nostri laghi, si trovano solo qui. Se noi li estinguiamo, non ci saranno più. Non è che ci sono altri stati in cui possono esserci ancora. No, sono solo qui. Di questa sessantina, diciamo, totale di specie del territorio italiano, sappiate che 20 specie sono o in pericolo o a rischio di estinzione. In questo momento sono state classificate così dalla UCN, di cui vi ho parlato anche varie volte. Vi cito qualche specie, anzi, uniamo questi due insiemi e vi cito solo gli endemismi a rischio, quindi le specie che ci sono solo da noi e che in questo momento sono a rischio di estinzione, non in pericolo di estinzione. Ora, quali sono le cause di questa perdita di biodiversità? E dipende ovviamente da specie a specie, caso per caso, ma come sempre si può tutto ricondurre alle macro cause di perdita di biodiversità che si trovano in tutto il mondo. Di solito la principale macro causa è sempre la perdita degli habitat o la loro degradazione. E quindi ecco che abbiamo la trasformazione di torrenti, di fiumi, la trasformazione di interi habitat per motivi legati ovviamente agli interessi dell'uomo. O d'altro canto, nel caso dei fiumi, abbiamo anche un grosso problema di inquinamento. Molto di quello che noi facciamo tendenzialmente finisce nei fiumi e nei laghi. E questo riguarda sia per quanto riguarda l'agricoltura che l'allevamento, che a volte anche rifiuti magari delle città. Da questo punto di vista uno dei problemi più grandi lo dà l'agricoltura, che attraverso il dilavamento di varie sostanze può portare a vari problemi. Non pensate soltanto ai fitofarmaci, che possono essere utilizzati in agricoltura, ma anche all'erosione della terra o all'utilizzo di materiale organico, come può essere dell'etame, che se viene dilavato può portare tutta una serie di sostanze all'interno dei fiumi e dei laghi. Poi abbiamo l'introduzione di specie aliene, sempre nel pod delle principali cause di perdita di biodiversità per quasi tutti gli ecosistemi. E come vedremo nelle acque interne italiane, questo è un problema veramente gigantesco. Poi abbiamo la sovrappesca, che in alcuni contesti è importante anche nelle acque interne, quindi ecco che di alcune specie se ne pescano troppe o se ne sono pescate troppe. Un esempio è il nostro luccio oppure il carpione del garda. E poi in certi contesti, magari negli ambienti tipo di ruscello, lì già il cambiamento climatico ovviamente sta già impattando, perché stati troppo calde o fluttuazioni troppo ampie nelle piogge possono già dare dei problemi, non indifferenti, perché se degli uscelli si prosciugano i pesci che ci sono dentro ovviamente muoiono. In questo contesto, che come capite è messo male, abbiamo veramente dei problemi di gestione enorme dei pesci nei nostri fiumi, nei nostri laghi, una fetta della popolazione si mette a pescare e ci sta, in certi casi questa pesca può essere causa stessa di vari problemi, come vedremo. Ora farò un discorso abbastanza generale, ma ovviamente sappiate che soprattutto nel caso della pesca si potrebbero fare molte distinzioni, ve le faccio subito. Sappiate che per esempio la gestione delle popolazioni ittiche in varie parti d'Italia sono gestite spesso in modo molto diverso da bacino a bacino. E quindi ecco che alcune pratiche possono essere permesse in alcuni fiumi o in alcuni laghi e altre pratiche invece non possono essere permesse. Alcune scelte di gestione fortemente opinabili vengono fatte in alcuni fiumi e altre invece non vengono fatte. E così via c'è una grande variabilità territoriale. Poi ovviamente possiamo fare delle distinzioni profonde sulla pesca regolamentata, che spesso permette la pesca di pochissimi capi per battuta di pesca, uno, due, tre, quattro in molti contesti, oppure la pesca di frodo fatta ovviamente con tecniche non permesse che magari permettono anche di catturare molti più individui. Questa potrebbe essere una distinzione importante. E anche lì torniamo tanto nel dibattito di come e quanto i bracconieri possono più o meno essere pescatori o collaborare con i pescatori o essere in contrapposizione con i pescatori. Possono ovviamente sussistere tutti questi problemi. E' ovvio che se in un ambiente che in quel momento è pescato da dei pescatori arriva a un bracconiere con delle tecniche particolari, molto forti, può anche essere che arrivi magari la segnalazione proprio da parte dei pescatori, di questo buzzurro che magari sta pescando con l'elettricità o cose del genere. Oppure può essere che un pescatore preso dalla giornata ecceda di molto il numero di individui che può pescare e che quindi in quel momento stia uscendo fuori ovviamente dai regolamenti, dalla legge, dalle regole e quindi in quel momento sia tendenzialmente alla pari di un bracconiere. Possono coesistere tutti questi aspetti, bisogna capire in che dimensioni. D'altro canto anche all'interno della pesca regolamentata ci possono essere delle differenze enorme. Per esempio c'è un movimento sempre più crescente di pesca a rilascio, cioè catch and release. I pesci vengono pescati e poi vengono rilasciati sul posto che si sta diffondendo sempre di più. Qui ognuno può avere delle diverse visioni di che cosa sia più giusto e che cosa sia meno giusto. In larga parte la pesca sportiva in acqua interna è più che altro ludica, non si fa tantissimo per la propria alimentazione. Per cui ecco che ci sono dei pescatori che pescano uno, due, tre capi e se li portano a casa se li mangiano. Altri che ne pescano e li rilasciano. Ecco sappiate che ovviamente anche nel caso del rilascio c'è una piccola percentuale di mortalità, ci sono degli studi che stimano intorno al 10% ma che ovviamente non è pari al pescare e portarsi a casa che ha una mortalità ovviamente del 100% una volta che ha catturato il pesce. Capite quindi come sempre che in certi contesti ci saranno dei casi in cui i pescatori possono eventualmente soprattutto andando fuori dalle regole avere un impatto su certe popolazioni di pesce perché magari ne pescano troppe. Questo può essere un problema in un certo contesto ovviamente lo è. Però di base c'è un problema nella pesca e cioè che il problema del bycatch è molto più probabile di quello che possa sembrare. C'è sempre una piccola probabilità di pescare per sbaglio un pesce che non si voleva pescare. Quindi ecco che io sto andando a pescare delle trote e però mi abbocca un barbo canino oppure mi abbocca un temolo. Può succedere, a volte capita e lì si tratta magari di un caso di bycatch che certo eventualmente si può rilasciare se quella specie è a rischio, se quella specie non è permessa ma magari può comunque questo generare dei danni a quel pesce. E questo ovviamente è un problema ecologico da gestire, da capire, da comprendere, da risolvere quando possibile. Anche perché in questi contesti in cui tutti questi pesci sono in difficoltà per tantissimi fattori magari la pesca non è propriamente qualcosa che di per sé impatta molto però è la goccia che fa traboccare il vaso. Ma poi c'è il secondo problema e qui veramente in molti contesti, in certi bacini purtroppo la pesca è associata a delle porcate gigantesche. Va detto ragazzi, io voglio essere sincero con voi e spero che se anche siete pescatori capiate e apprezzate questo tipo di discorso. Le nostre acque interne hanno un problema gigantesco di specie aliene che fanno dei danni ecologici giganteschi sulle nostre specie che rischiamo anche appunto di perdere e in parte una parte di questa causa, di questo problema è legato alla pesca. Pensate che nelle nostre acque interne in questo momento ci sono circa una cinquantina di specie di pesci alieni il che ovviamente è abbastanza assurdo perché se ci pensate significa che praticamente nelle nostre acque interne metà delle specie presenti non sono autoctone, sono state in qualche modo introdotte e come dicevo purtroppo anche a causa dei pescatori. In alcuni casi questo rilascio magari è stato fatto da individui spesso sprovveduti, ignoranti che hanno fatto dei danni ecologici giganteschi e quindi ecco che magari, che ne so, un pescatore appassionato della pesca americana, al black bus, ecco che dice vabbè ma sai cosa faccio? Libero dei black bus anche da me, me li faccio importare in qualche modo e li libero così poi ce li avremo anche noi nei nostri fiumi, nei nostri laghi. Mi viene da piangere soltanto a pensarci. Ecco questo tipo di fenomeni magari in cui basta un individuo, un gruppo di individui che organizzano una cosa del genere e facciano i danni giganteschi purtroppo esistono. Un altro metodo in cui un pescatore, un gruppo di pescatori possono introdurre delle specie aliene è quello che riguarda la pesca con il pesce vivo. In alcune parti d'Italia è possibile pescare col pesce vivo in un certo senso. Quindi ecco che viene allamato un pesciolino che è stato precedentemente tenuto magari vivo appositamente e questo viene usato come esca. Ecco capita magari alla fine della pescata che rimangano dei pesciolini piccoli e qualche individuo all'interno ovviamente di questa sacca, all'interno di questo secchio in cui si è tenuto questi pesci e che eventualmente vengono rilasciati alla fine della giornata di pesca. È una cosa che viene fatta in molti contesti. Ecco questo è un altro modo in cui vengono introdotte delle specie aliene, cosa ovviamente molto problematica. Ma poi c'è l'altro rapporto problematico tra specie aliene e pesca ed è quello legato a quei contesti in cui l'introduzione di specie aliene viene fatta in modo sistematico, continuo, continuativo da gruppi che gestiscono i bacini. E quindi ecco che vogliamo pescare tutti quanti le trote? Bene, introduciamo delle specie americane e continuiamo a ributtare costantemente con una certa quantità trote americane nei nostri fiumi, nei nostri laghi per garantire la pesca ai pescatori. Veramente questa è una cosa che dopo aver studiato conservazione a me fa uscire dai gangeri. Per me è inaccettabile, assurda come cosa. Da questo punto di vista ci sarebbe tutto il tema delle trote, che è veramente assurdo. Però per capirci esistono delle trote diciamo italiane. Qua c'è un mega dibattito se si tratti di specie italiane o sottospecie italiane. Non ci entriamo in questo momento. Negli ultimi decenni c'è stata una larga introduzione di altre specie. Da una parte una specie europea, con cui purtroppo le nostre trote possono anche ibridarsi, per cui ecco che a un certo punto si perde anche informazione genetica. E anche una specie americana, in realtà ci sarebbero più specie americane, ma la principale è Oncorincus mikis, la cosiddetta trote l'idea che viene costantemente rilasciata in vari bacini, in questo momento, nel nostro paese. E questa cosa è assurda. È una specie che si trova nella lista delle 100 specie più invasive al mondo, che ha fatto danni ecologici in giro per il mondo in modo continuo, e noi non solo non cerchiamo di eradicarla come si dovrebbe fare in tutte le parti del mondo con le specie aliene, ma non solo. Noi in deroga continuiamo a buttarla nei nostri fiumi, a buttarla nei nostri laghi, con il paradosso che, mentre ci sono indicazioni chiare che le altre specie aliene, se vengono pescate all'interno dei nostri fiumi, non vanno mai rilasciate, perché ovviamente sono specie che possono portare dei danni, quindi gli individui vanno in un certo modo soppressi, nel caso della trote l'idea, non solo questa cosa non succede, ma attivamente vengono buttate nei nostri fiumi, nei nostri laghi. Ragazzi, io è una cosa che veramente non posso sopportarla, per me è assurda come cosa. Questa è una specie che non si è sviluppata nei nostri ambienti, gli animali, gli altri animali non sono adattati a rispondere a questa trota, a sapersi difendere, quindi ecco che questi animali tendono a predare invertebrati, altri piccoli pesci, ma pensate possono mangiare anche piccoli rettili o roditori che non hanno sviluppato le difese contro questa specie, e in più ovviamente in tutto questo andando ad occupare una nicchia ecologica che è quella delle altre specie e di trota. E quindi ecco che dove ovviamente viene immessa una grande quantità di questi pesci, anche in modo forzoso, c'è una inevitabile competizione con le altre specie. Ma questa cosa è ovvia, è la base dell'ecologia, questi concetti. Eppure no, per la pesca, per garantire una certa soddisfazione dei pescatori, in certi contesti si immettono grandi quantità di pesci in questo mondo, facciano dei danni ecologici giganteschi. E non solo, questo continuo spostamento di individui, che viene spesso operato, capite, da allevamenti o da parti di un fiume a parte di un altro, ovviamente permettono anche una grande diffusione di patogeni, e allo stesso tempo anche i pescatori purtroppo possono essere veicolo di malattie da una parte all'altra di un fiume, attraverso magari anche, come dicevo, magari di alcune esche o dei vestiti che si possono essere contaminati in un fiume e poi possono essere portati in un altro, e così via. Ora, questo non significa che nel mondo della pesca non si siano fatti dei passi avanti. Negli ultimi anni ci sono anche dei cambiamenti, anche culturali, che stanno portando una maggiore attenzione da questo punto di vista, e quindi ecco che si sta andando verso forme di pesca meno importante. La pesca con rilascio sta diventando sempre più diffusa in molti contesti, i regolamenti diventano spesso sempre più restringenti su quali eschi si possono utilizzare, che tipo di ami, in modo che siano magari meno impattanti sulla bocca dei pesci, oppure in alcuni casi si sta progressivamente smettendo di ripopolare questi bacini con specie aliene e si sta lavorando al ripopolamento di specie autoctone. Sono tutti spirali di luce, però ecco, forse dovremmo anche tutti noi impegnarci a fare di più e se siete pescatori dovreste essere i primi a pensare che la salvaguardia degli ecosistemi d'acqua dolce dovrebbe essere una delle priorità che tutti noi dovremmo avere. Quindi in un certo senso, rispondendo al titolo di questo video, io non credo ovviamente che la pesca vada necessariamente abolita, ma che a livello sociale, che all'interno della comunità dei pescatori, necessiti un forte ripensamento di che cosa si fa, che cosa non si fa, di quale pratiche sono permesse, di quanto sia accettabile o non accettare la continua soluzione di specie aliene, è qualcosa a cui bisogna pensare. Anche i pescatori possono contribuire effettivamente a dare una mano. Uno dei modi ovvi è il rapporto tra la pesca e le specie aliene. Da una parte evitando, in tutti i modi possibili, di introdurre nuove specie aliene, pescando il più possibile quelle che sono presenti e evitando magari di rilasciarle. Esistono dei contesti culturali nel nostro paese in cui il catch and release, la pesca col rilascio, è diventata talmente tanto una questione filosofica che ci sono individui che, pescata una specie aliene, tendono a rimettere il pesce in acqua. Cosa che oltretutto è anche sanzionabile attraverso una multa. Ecco, quelli sono casi in cui appunto il pescatore può giocare un rollout fondamentale. Pesco un siluro? Ecco, non lo rilascio. E magari vado più spesso a pesca di siluri, per contribuire a togliere una certa quantità di questi pesci dai nostri laghi. Questo ovviamente rimane sempre uno dei miei approcci preferiti. Io veramente mi auguro sempre di più che la pesca, in un certo senso anche la caccia verso le specie aliene, possa diventare una parte importante e ci sia sempre più uno spostamento della caccia alla pesca da specie autoctone, da specie alloctone, in modo che la caccia e la pesca possano eventualmente diventare parte della soluzione ai problemi ecologici. Ma questo è un discorso più ampio che magari affronteremo qualche altra volta. A proposito, vi lascio anche un codice di condotta, è in italiano, sul rapporto tra la pesca e le specie aliene e come dovrebbero comportarsi i pescatori per non essere parte del problema e essere anche parte della soluzione. Ve lo lascio in descrizione nel primo commento. In generale, capite, un'attenzione verso le nostre acque interne in questo momento è fondamentale. Ci sono tanti problemi che si riversano, in un certo senso, proprio sulle nostre acque interne. E dovremmo tutti quanti stare molto più attenti di quanto siamo, molto più attenti di quanto paradossalmente succede in altri ecosistemi che magari vivono sempre delle criticità, ma non così tanto forti come le nostre acque interne. Per cui tutti noi portiamo più attenzione e chi ovviamente, in un certo senso, ha a che fare con quegli ambienti, faccia ancora più attenzione. E molte delle cose che vi ho raccontato oggi magari si possono anche provare a risolvere tutti insieme. Bene, veramente pensiamoci perché la situazione non è rosa per le nostre acque interne. Io volevo semplicemente portare un po' di luce, un po' di dibattito su questa questione. Ci tenevo in modo particolare. Voglio anche sapere cosa ne pensiate, anche voi, delle riflessioni che ho fatte, anche tra il rapporto su come viene percepito in modo diverso la caccia, la pesca. E voglio anche capire quanto voi sapevate che le nostre acque interne, che le specie che si trovano nei nostri laghi, nei nostri fiumi sono così messi male. Questo era tutto quello che volevo dire. Ringrazio tantissimo due persone. Andrea Gollin, che mi ha dato una mano a scrivere questo video perché iniziano ad esserci i video scritti da altre persone grazie alla call dei collaboratori che ho fatto qualche mese fa. Ringrazio molto Andrea. Oltretutto Andrea è un canale YouTube. Lui si occupa di acquari. Se vi interessa, può piacere. Ve lo lascio in descrizione nel primo commento. E ringrazio anche Daniele Pieracci che anche lui ha aiutato dandomi delle ulteriori fonti per questo video e credo anche, credo, quindi lo dico dopo ha fatto anche una revisione a questo video. Quindi probabilmente se ci sono delle cose che ho corretto l'ho fatto perché anche lui l'ha guardato. Lui è un etiologo che si occupa proprio di appunto pesci d'acqua dolce nelle acque interne. E quindi sono veramente contento ragazzi. Voi non potete neanche capire cosa significa per me il fatto che dietro a alcuni dei miei video e spero un giorno tutti i miei video ci sia anche un lavoro di altre persone che controllano che mi danno una mano a trovare altre informazioni che mi permettono di portare un contenuto sempre più di qualità. Se io posso fare questa cosa qui è grazie a voi è grazie anche e soprattutto a chi mi aiuta anche economicamente. Va detto. Quindi chi per esempio è abbonato sulla piattaforma TPI chi è abbonato sulla piattaforma Patreon che mi permette di continuare a sperare di diventare sempre migliore nei miei contenuti. Se anche voi volete darmi una mano trovate tutto nel primo commento in descrizione. E con questo io vi saluto. Ciao a tutti quanti.